L'Abruzzo da domani, lunedì 1 febbraio, tornerà in zona gialla e ci saranno meno restrizioni anti-Covid. Dopo l'analisi dei dati del monitoraggio regionale, la cabina di regia nazionale ha assunto la decisione di far tornare l'Abruzzo e altre regioni italiane in zona gialla dalla fascia arancione. Con il passaggio in area gialla sarà possibile uscire dal territorio comunale, ma resterà in vigore il divieto di spostamento tra le regioni. Il coprifuoco scatterà dalle ore 22 alle 5. Gli spostamenti al di fuori di queste regole saranno possibili solo con autocertificazione per comprovati motivi di salute, lavoro e necessità. Le visite apparenti amici sono consentite una sola volta al giorno all'interno della stessa regione tra le 5 e le 22 per un massimo di due persone, oltre a quelle già conviventi nell'abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno portare con sé figli minori di 14 anni e le persone diversamente abili o non autosufficienti che convivono con loro. Per bar e ristoranti la via apertura è consentita al pubblico fino alle ore 18. Dopo le 18 fino alle 22 sono consentiti la vendita con asporto di cibi e bevande e le consegne a domicilio. Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali nelle gallerie dei centri commerciali, a eccezione di farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di genere alimentari, tabacchi ed edicole. Musei e mostre riaprono da lunedì al venerdì con esclusione dei giorni festivi e con ingressi contingentati nel rispetto delle misure anti-covid. In zona gialla è consentita la pratica dell'attività venatoria dentro i confini regionali, palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e termali restano chiusi, a eccezione delle prestazioni erogate per l'assistenza, le attività riabilitative o terapeutiche e per gli allenamenti degli atleti, professionisti e non professionisti, che devono partecipare a competizioni ed eventi riconosciuti di rilevanza nazionale con provvedimento del CONI e del CIP. Nei centri e circoli sportivi si potrà svolgere l'attività sportiva di base esclusivamente all'aperto, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento.